Gerolatrici e gerolatori, buongiorno! Bentornate e bentornati tutti quanti a le nostre live, le nostre live che ormai ci sono diventati un appuntamento quotidiano. Oggi di solito, voi sapete, il venerdì noi facciamo Friday Tips con Docta, però visto che questa settimana è andata un po' così perché abbiamo ricominciato le live dopo un periodo in cui sono stato veramente KO. Oggi usciva il quinto capitolo di Fabula Chronicles ed era un po' che non ne parlavamo, non di Fabula. Anche semplicemente fare un aggiornamento con voi, come vi trovate e cosa ne pensate. E abbiamo fatto anche una survey assieme a voi. Meglio, 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 sto anche mangiando, ragazzi e ragazzi, sto mangiando questo pastone di fagioli, riso e altra roba per stare meglio. E quindi abbiamo deciso di fare questa puntata parlando proprio di Fabula. Voi sapete che facciamo un sacco di chiacchierate assieme, di Fabula Chronicles, permetto, Fabula ne abbiamo parlato fin troppo nel corso di questi anni. Volevamo fare proprio una puntata con voi parlando di Fabula Chronicles, parlando di questa season, parlando delle differenze con la season passata e parlando anche del Palazzo di Sol, ovvero l'avventura che nasce oggi. Questo perché abbiamo avuto molto, abbiamo la fortuna noi, di avere tanti amici, no? Che giocano di ruolo. E quindi abbiamo parlato anche con loro, no? Alcuni ci hanno dato dei feedback su Fabula, altri hanno conosciuto Fabula grazie a Fabula Chronicles, altri giocano solo a Chronicles e non giocano a Fabula, altri giocano solo a Fabula e non giocano a Chronicles. Il punto è che non abbiamo mai avuto dei numeri, no? Di questa season. Cioè noi vediamo che viene scaricata un boato di volte, ma non sappiamo quantificare quante la stanno giocando effettivamente. Come abbiamo detto, proviamo a fare una survey, proviamo a parlare con voi e vedere un pochettino se si crea qualcosa di costruttivo. Cioè quello che vogliamo fare noi è darvi un prodotto che vi è più figo, soprattutto perché sarà un prodotto, vi ricordo, che sarà gratuito, sempre stato gratuito, ma che durerà molto perché saranno più di 20 sessioni e termineranno a Lucca. Il nostro scopo è fare magari una mega multitavola a Lucca. Ci sarà una multitavola di Fabula Ultima al Play. Quindi avrà lungo respiro e ci sembra, visto che abbiamo appena finito il prologo, queste survey ci saranno alla fine di ogni capitolo. Nel senso noi capitoli che escono, ma è un prologo, e di ogni atto, scusatemi, questa è la parola corretta. Quindi volevamo andare all'assunto con voi. Quindi inizierei con chiedervi quanti di voi giocano a Fabula Chronicles. Tanto io mangio, eh. E soprattutto, chi gioca a Fabula Chronicles, che impressioni ha? Come si sta trovando con Fabula Chronicles? Quanti ne ha giocati? E via dicendo. Adesso vedremo anche, per chi non conosce invece Fabula Chronicles, come è fatto un capitolo. Scaricherò il primo, non è spoiler, perché è stato fatto due mesi fa, quindi... Benissimo, Kim, cioè nel senso è perfetto. Questa live è fatta apposta per te, allora. E per le persone, tutte le persone come te, che non conoscono Fabula Chronicles e non sanno come si approcciarsi, ad esempio. Panforte, l'abbiamo detto più di una volta, appunto perché c'è questo problema qua, non è Fabula Chronicles. Infatti abbiamo sempre detto che era un multitavolo di Fabula ultima. Poi chissà. Magari ci saranno dei boost perché gioca a Fabula Chronicles. Chi lo sa? Delle reward. No, ma figurati. Allora. Scusate ragazzi e ragazzi, perché oggi è una giornata veramente al fulmicotone. La sera mangio il cavolfiore. Io amo il cavolfiore, eh. Cioè nel senso... Allora, fatemi la giornata dei miei messaggi. Ma ancora non ho trovato... In che senso non hai trovato Zey alla sessione? Adesso vi faccio vedere, facciamo assieme, passo passo, cosa bisogna fare. Allora, Goblunz. Io vorrei giocare sul Discord, ma non ho avuto modo né tempo. Avevo partecipato alla Season Zero. Ok. Iniziato ieri la Season Zero col mio gruppo. Bravo, Duna. Io ho finito Chronicles tra Season Zero ed è bella come Fabula Ultima. Ho tutti i manuali ed espansioni, ma ancora non ho avuto tempo di giocarci. Ho sempre pensato che fossero spesso di gioco organizzato e quindi non per gruppi singoli, non ci ho mai indagato troppo. No, assolutamente può essere giocato anche per i gruppi singoli. È il gioco organizzato, ma può essere fatto assutente dai gruppi. Comunque, allora, che cos'è Fabula Chronicles, ragazzi? Molto semplicemente... Allora... Andiamo su FabulaUltima.it, no? Classico nostro sito che ormai conoscerete alla perfezione. In fondo, c'è risorse di gioco, FabulaUltima e i vari bonus, la soundtrack, Fabula Chronicles. Scopri il gioco organizzato di FabulaUltima. Scheda del PG, Diario dell'eroe, Scheda del PNG, Mappa di Cardia, Scheda del Mondo. Stagione 0, c'è la guida strategica ufficiale alla stagione 0, dopodiché ci sono le dieci sessioni. Oscuri presagi, sulle tracce dell'ombra, un tuffo nel buio, sussurri nel vento, aria di tempesta, nel vortice dei ricordi, notti... Lampi del passato, una luce dell'oscurità, la notte delle lacrime, notti magiche. Sono dieci sessioni dovevi fatto una micro campagna. Micro, dieci sessioni, non faccio un cazzo del micro, una mini campagna. Questo qua è stato l'esperimento di Fabula Chronicles, stagione 0, cioè come fare un gioco organizzato di Fabula, che di per sé non era facile, no? Era abbastanza complicato. Dopodiché abbiamo fatto la stagione 1, che attualmente in corso avrà 20 sessioni, quindi sarà il doppio, almeno 20 sessioni sarà il doppio più lunga di quella precedente. E quindi è bella, bella intensa. Cosa faccio per giocare a Fabula Chronicles? Io non ho solo sentito parlare, non ho idea. Sì, almeno 20 sessioni, Ergut, cioè dura da febbraio, iniziata ai primi di febbraio, e finisce a Lucca Comics and Games, unisci uno di due settimane, fai te. Per prima cosa io mi scarico la guida strategica. Facciamo proprio tutto passo passo, e facciamo una Twitch, facciamo una cartellina nuova, nuova cartella, no, non è sul mio drive, ho sbagliato, desktop, nuova cartella, no, c'è già Dio Santissimo! Twitch, nuova cartella, Fabula Chronicles, ok. E io mi scarico qua dentro. La guida strategica, salva. La mappa di Gemini's, me la salvo. Poi, voglio giocare, mi scarico la scheda del PG. Facciamo qua risorse giocatori, nuova cartella, risorse giocatore. Oh, mi scarico. La scheda del PG, il diario dell'eroe, scheda del PNG, mappa di Cardia, scheda del mondo. Prima di iniziare a giocare, ok. Quindi io vado a vedere quello che ho scaricato, ho detto, che cacchio è? Fabula Chronicles. Guida strategica stagione 01, questa qua sarà la prima cosa. Certo, assolutamente Valentina, assolutamente, devi usare il manuale base. Adesso vi faccio vedere cos'è Chronicles, no? Perché abbiamo visto che c'è ogni tanto un po' di confusione, quindi io vado a scaricarmi, mi apro la guida strategica. Sono 34 pagine, versione 1.2 del 31 marzo 23. Perché 1.2? Perché più va avanti Chronicles, più scoprirete nuove cose, nuove fazioni, più la guida strategica viene aggiornata. Quindi è in continua evoluzione. Vi diamo il benvenuto nella guida strategica ufficiale della stagione 01 di Fabula Chronicles, il gioco organizzato di Fabula Ultima, promosso da Need Games e sviluppato con la collaborazione della community. Sommario. Questo living document fornisce tutte le indicazioni per giocare a Fabula Chronicles e linee guida su come creare e far avanzare i personaggi, suggerimenti su come gestire le sessioni per i GM e la descrizione dell'abitazione del mondo di gioco. La guida si svilupperà ulteriormente nel corso della stagione e potrà essere parzialmente rivista o modificata a seconda delle esigenze e riliscieremo eventuali patch notes per aiutarvi a rimanere aggiornati. Che cos'è Fabula Ultima? Che cos'è Fabula Chronicles? Ruoli di gioco, strumenti di sicurezza, guida del giocatore, guida del Game Master, cardia, il cuore del mondo, registro degli aggiornamenti, il long sheet, riconoscimenti. Allora, quello che interessa a noi, vabbè, Fabula Ultima, mettiamo la pagina singola, va che così è meno incasinato. Tutti sanno che cos'è Fabula Ultima, che cos'è Fabula Chronicles? C'era no, prima persone dicevano, eh, ma non ho mai capito come funzionava e via dicendo, ecco come funziona Fabula Chronicles. Fabula Chronicles è il gioco organizzato in Fabula Ultima, una campagna di gioco continuativa pensata per permettere di giocare con il proprio personaggio anche al di fuori del proprio gruppo abituale, in un ambiente comune a tantissimi altri giocatori. Podersi sedere a un tavolo di gioco con lei, con persone che non si conoscono, partecipare a una convention con un evento multitavolo, trovarsi nella propria associazione o ludoteca di riferimento, per giocare a cadenza fissa qualcosa di comune a tutti. Ogni stagione di Fabula Chronicles si divise in atti di più capitoli, le sessioni, concepiti per essere parti in una lunga campagna, in un mondo condiviso, ma giocaboli anche come esperienze one shot. Manuali di riferimento. Vale, questo è per te o Kim, quello che ne chiedevi tu prima. Al di fuori di questa guida, solo il manuale base, lo schermo e il quaderno del Game Master, l'Atlanta e i Fantasy di Fabula Ultima, possono essere presi come riferimento. Non si possono utilizzare materiali in pretesto non definitivi. Ambientazione. Ogni stagione si basa su un'ambientazione, ai Fantasy, Natural Fantasy o Technofantasy. Sfrutta le descrizioni e gli esempi presenti nel manuale base e negli Atlanti per raggiungere dettagli sui personaggi al mondo di gioco. Si può partecipare ai capitoli anche in maniera non continuativa, senza che questo infici l'esperienza del gioco. Ogni PG può prendere parte allo stesso capitolo solo una volta. Se sei un giocatore e vuoi rigiocare nello stesso capitolo, devi quindi creare un nuovo PG. Se sei un GM puoi far giocare, ossia masterare più volte lo stesso capitolo, ma osserva le indicazioni in avanzamento del Game Master a pagina 15 per la gestione delle tue ricompense. Si può anche giocare senza seguire un gioco logico, non è consigliato farlo, se non in maniera occasionale per poter godere appieno degli sviluppi narrativi della stagione. Se stai a giocare un capitolo precedente a uno già giocato, non esagerare con il metagioco e cerca di non inficiare l'esperienza di altri giocatori che devono ancora conoscere come si evolverà la storia. Cardi al cuore del mondo. Ambientazione high fantasy per le stagioni 0 e 1. Esplora le isole fluttuanti e scolori cosa si cela dietro la misteriosa leggenda delle tre sorelle mentre antichi pericoli minacciano la pace. Penso che sia tutto chiaro. Ruoli di gioco, il Game Master e il giocatore, cosa serve per giocare, dai vita al mondo e via dicendo, strumenti di sicurezza, creazione del personaggio. La creazione del personaggio, udite udite, si fa esattamente come i personaggi di Fabula Ultima. Qual è la grande differenza? Non c'è l'origine, ma c'è le fazioni e ci sono delle modifiche alle classi. Le modifiche sono segnate qua. Tutto gratuito, è quello che vi so far vedere. Le tre sorelle sono le Carlucci, bandate Ergut per favore. Data la particolare natura del gioco organizzato, alcune classi hanno subito dei lievi aggiustamenti o seguono regole speciali per la creazione del personaggio di Fabula Chronicles. Arcanista Si sceglie l'abilità vincolo ed evoca, si inizia il gioco con un Arcanum scegliete quelli proposti nel manuale base. Selezionando l'abilità eroica Rivelazione una volta padroneggiata questa classe, non è possibile creare e vincolare un Arcanum personale, ma bisogna scegliere tra quelli proposti. Eventualmente è possibile introdurre tra i nuovi Arcanum e selezionabili quelli presentati come esempio dell'Atlanta e i Fantasy, adattandoli all'ambientazione di riferimento. Inoltre, altri Arcanum potrebbero essere proposti nel corso della stagione. Artefice Io ad esempio in Fabula il mio personaggio, io mastro e gioco di solito. Ogni capitolo sia lo mastro, ogni capitolo lo gioco. Fino a livello 10 non si possono creare progetti superiori ai 2000 zenit. Oltre a livello 10 il costo massimo aumenta a 4000 zenit. È possibile lavorare a un progetto solo tra un capitolo e l'altro ed esclusivamente da soli. Tutti i progetti devono essere scelti da quelli proposti del manuale base e approvati dal Game Master all'inizio della sessione per l'utilizzo durante il capitolo. Canaglia! Noi abbiamo visto furbetti e furbette cosa facevate nella season 0 con Ruba Spirito? Ce lo ricordiamo bene? Quindi L'abilità Ruba Spirito viene sostituita con la seguente Ruba Bottino Puoi usare un'azione per effettuare un test di destrezza e volontà contro la difesa magica di una creatura a te visibile. Se hai successo il bersaglio di rango soldato ricarichi LA, livello abilità, punti inventario puoi distribuire eventuali punti inventario in eccesso tra gli alleati presenti nella scena. Se hai successo il bersaglio di rango elitto o campione tu e ciascuno al battaglio presenti nella scena ha guadagnato una montagna di zenit pari a livello del bersaglio moltiplicato per 5 o per 10 se è un cattivo ciascuno Una creatura può essere derubata con successo a questa abilità soltanto una volta inoltre ottieni un bonus pari LA hai i tuoi test di destrezza e più volontà per questa volontà Chimerista non si possono prendere incantesimi da PNG di livello molto più alto rispetto a quello del PG la differenza massima è di 9 diselli ad esempio un PG di livello 5 può prendere incantesimi da PNG di livello 14 o inferiore Simbolista i simboli e i loro effetti hanno durato illimitata solo all'interno del capitolo venendo ottimo di gente distrutti al fine dello stesso il simbolo della prosperità viene modificato come segue ciao graverna quando la creatura su cui impresta questo simbolo spende un punto fabula per invocare un tratto o un legame è essere cariché inoltre fino a 6 punti inventario i punti inventario ottenuti in questo modo non possono eccedere i limiti massimi per questa creatura arewar primo messaggio benvenuto in chat volevo fare i complimenti per questo GDR stupendo ah grazie ho preso tutti i manuali li ho divorati sono veramente bellissimi spero il giorno di riuscire a giocarli purtroppo non trovo nessuno che voglia giocarci arewar stiamo parlando di fabula cronicles il gioco organizzato quindi già stasera se tu sei libero puoi venire a giocare noi sul nostro disco nell'associazione vi dicendo vengono fatte un sacco di sessioni di fabula cronicles è il gioco organizzato di fabula ultima poi qua la paglia alcune opzioni che armi personalizzate si possono fare le peculiarità non vengono usate in gioco scusate mi soffri un secondo il naso perché sono ancora con raffreddore grazie mille bislacco per la sub grazie grazie veramente allora scusatemi allora ma cosa hai usato per digerire un amaro normale non ho capito va bene lo stesso arewar mi chiede su di ci sono molti gemmi affamati squara io nico masterato ho giocato fabula cronicles la stagione 1 e mi fa piangere il cuore dirlo ma rispetto alla season 0 non regge il confronto parlando sia con i miei giocatori nelle varie sessioni sia con i miei compagni in cui gioco ho notato un malessere diffuso per certe scelte sia a livello di gestione del capitolo sia per scelte a livello di trama squara ci sono arrivati dei feedback sia positivi che negativi ed è per questo che adesso guardate ve la posso già ve la posso già linkare la vediamo un secondo assieme stiamo facendo una survey perché vogliamo dare un attimino un cambio di rotta da questo punto di vista dammi solo un secondo che te la tiro fuori un attimo solo whatsapp 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 web così vi faccio vedere la survey guarda 107 che si sta già proponendo di fare un capitolo 0 allora eccolo qua abbiamo fatto una survey per appunto per capire come sta andando squara fabula chronicles s01 come sta andando allora fondamentalmente tra sta venendo giocata molto ma tra le critiche che sono state colte premetto noi abbiamo la fortuna di avere una community veramente bellissima quindi anche le critiche sono sempre critiche molto costruttive e visto che noi prima di tutto siamo giocatori di ruolo come ben sapete ragazzi e ragazzi noi vogliamo sapere cosa ne pensate e le critiche le ascoltiamo e le vogliamo mettere in campo ad esempio generatrice giornatoria che a voi è un veloce sondaggio per capire assieme come sta andando la stagione 1 di fabula chronicles vedi squara quindi qua puoi ti chiedo per cortesia anzi ve lo metto anche qua un secondo che vi metto qua il link che se volete rispondere intanto potete rispondere poi naturalmente faremo faremo il anche la cosa io quando l'ho visto adesso ci sto lavorando anch'io personalmente da da questo capitolo iniziate a lavorarci anch'io personalmente a fabula chronicles c'è stata un pochettino la mancanza di agency da parte dei giocatori il fatto che la creazione condivisa non fosse così importante cioè non fosse predominante passatemi c'è il fatto che non si possa giocare la creazione condivisa e infine il il fatto che molti capitoli non erano autoconclusivi cioè erano legati a quello precedente a quello successivo noi vogliamo che vi divertiate che ci giochiate quindi abbiamo fatto questa survey per farvela farvela vedere per fare assieme e capire che che modifiche possiamo andare a fare quindi ad esempio ve lo leggo giornatrice e giornatoria che a voi ho un veloce sondaggio per capire assieme come sta andando la stagione 1 di fabula chronicles vi chiediamo pochi secondi del vostro tempo per rispondere a queste domande così da aiutarci a rendere fabula chronicles sempre più avvincente hai giocato la stagione 0 di fabula chronicles lo faccio io perché io l'ho fatto sì stai giocando la stagione 1 di fabula chronicles sì quanti capite la stagione 1 di fabula chronicles hai giocato più di 4 hai intenzione di continuare a giocare la stagione 1 di fabula chronicles sì cosa ti piace di più e di meno della stagione 1 di fabula chronicles esprime le tue preferenze in ogni argomento trama mi piace creazione condivisa non mi piace affatto come sta venendo gestita ambientazione mi piace molto combattimento mi è indifferente esplorazione ne vorrei che ce ne fosse di più quindi non mi piace nella stagione 1 di fabula chronicles vuoi giocare più capitoli autoconclusivi a 6 standi o con finale aperte legate al capitolo precedente successivo autoconclusivi personalmente cosa cambieresti o cosa vorresti che fosse più presente nella stagione di fabula chronicles allora vorrei più creazione condivisa giocabile capitoli che abbiano una chiusura a se stante punto inoltre vorrei interagire di più con i png i codici se hai deciso di non giocare a fabula chronicles puoi spiegarci la ragione qua c'è un errore che vado a correggere immediatamente facciamo intanto invia opzione 1 non so cosa sia invia allora c'è un errore c'è un errore fatemelo modificare al volo un secondo perché questo è importante papapapapapapa papapapa così andiamo su drive andiamo su sondaggi drive google forms eccolo qua accedi ok eccolo qua oprala fatto paragrafo invia condividi a breve a 1 copia ecco qua questo qua è il sondaggio corretto inoltre alb così vi ho detto ho trovato anche l'errore con voi chiede l'autorizzazione fate vedere subito invia a breve a urlo datemi un secondo perché chiede l'autorizzazione vabbè adesso vedremo adesso vedremo l'autorizzazione vi chiede a tutti l'autorizzazione fate vedere un secondo ragazzi non ne ho idea papapapapapa no chiede sempre l'autorizzazione scrivo e chiedo allora ah se qualcuno è interessato a giocarlo stasera mi sta dicendo 107 che ha fatto il file chi mi sta chiamando scusate voglio vederlo con voi vai a moduli voglio vedere come fare sapete che non ho veramente ragazze e ragazze idea di come renderlo pubblico scusatemi eh genera link per complicato no aggiungi collaboratori no vediamo aggiungi collaboratori no non c'entra nulla ah ecco qua ok fine ditemi adesso se lo vedete copia copia ecco fatto e lo sto vedendo docta ma non c'è vedete lo sto vedendo con voi ragazzi sapete che io sono un imbecile digitale no cosa non so non so non so allora cosa fare eh niente allora lo rifarò in qualche modo non ne ho veramente idea eh ma l'ho fatto chiunque abbia il link ragazzi c'è scritto chiunque abbia il link se faccio invia vedete anche qua nelle impostazioni aggiungi collaboratori accesso generale chiunque abbia il link per compilare non 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 c'è nessun modo per renderlo free nessun modo general link pre compilato copia link vediamo così guardate se così riuscite andare ancora autorizzazione eh niente ragazzi non so cosa fare ne parleremo dopo cioè non ha non ha senso perdere adesso le ore sì sì esatto ora va goblin dice che va boh non non so qualcuno dice che va alcuni dicono che non va non non si funziona ok quale questo qua lungo questo qua è lì che funziona ok perfetto rispondete allora come dei porcelli così vediamo le risposte perfetto se provate a rispondere vediamo se riuscite a rispondere così vediamo sì quello lungo grazie ok allora questo qua lo copio questo ci abbiamo fatto assieme i top no ma tanto dopo facciamo ok vediamo se rispondete provate qualcuno se qualcuno ha risposto così vediamo un attimino se ci rimane le risposte comunque torniamo a noi cosa più importante stavamo vedendo no la il documento di di fabula così vediamo se c'è il ci sono tutte le varie come fare il proprio personaggio no con i poteri zero e via dicendo cosa si può usare o no dopodiché c'è il diario dell'eroe il diario dell'eroe andiamo ad aprirlo diario dell'eroe eccolo qua è una scheda personaggio in più che si usa appunto solo durante grazie si si senza di voi ragazzi c'è sensamente che sono sono un imbecille qualcosa questo qua altro non è che il il link la scusatemi il diario dell'eroe ovvero una pagina dove andiamo a inserire le varie cose che capitano al nostro personaggio durante fabula chronicles ad esempio vi faccio vedere io ho il mio personaggio allora il mio drive gdr fabula chronicles eccolo qua vado in dov'è vediamo se c'è la scheda di garu garu morelli livello 8 scheda pg e poi ho il mio diario dell'eroe questo qua è il mio diario dell'eroe il foglio 1 con le cose che abbiamo che abbiamo trovato che cosa abbiamo trovato nelle varie sessioni i personaggi e via dicendo però sto qua non è quello aggiornato dove è quello mio aggiornato ho un diario dell'eroe aggiornato che forse nel capitolo 1 no eccolo qua questo qua è quello aggiornato quella era di un altro personaggio qua sono tutte le cose che ho trovato come lo sto condividendo lo schermo non lo vedete con le varie cose che mi sono capitate dopodiché come potete vedere anche la scheda del pg è diversa un insutto è arancione banalmente per il resto è uguale che cosa cambia cambia la fazione la fazione non c'è più scritto l'origine ma è la fazione ci sono delle fazioni ma uno mi dice scusami Nicola ma io ho giocato a fabula ma non ho mai sentito parlare di fazioni certo perché le fazioni sono una cosa tipica del del niente mi è andato in shadow del cervello è una cosa tipica del vi dirò una cosa è la primissima volta che vedo questa cosa qua primissima volta mai compilata in tutta la mia vita sono un coglione vabbè vedete e sono 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 anche eh lo so lo so squara sono imbecilia cioè vedi che non l'ho mai compilato mai mai cioè nessuno ah no ah no ma squara quello di shodo vedi mai compilato io per il mio personaggio mai dovrò compilarlo sono un coglione vabbè vabbè ragazzi c'è nel senso che sia un coglione è una novità lo sapete anche voi vabbè comunque questi cazzi stavano dicendo no ma ci sono le fazioni io non ho mai giocato con le fazioni che cosa sono in fabola le fazioni non c'è nessun problema perché vi spiega tutto che cosa fare su tutti i capitoli che cosa fare coi punti legame come si acquisiscono punti fabula rese in sacrificio e via di cesso fazioni di gioco in fabola con i ripigino sono scapestrati qualunque casualmente coinvolti in un'avventura sono prodi e valorosi avventurieri sulla via per diventare eroi che fanno parte di una fazione un'organizzazione che lavora per il bene del popolo abituata a collaborare con le altre realtà simili ma con un'impronta caratteristica e scopi ben precisi ciao a voi avrebbero arrivato le fazioni ovviamente ci sono qua ci viene spiegato com'è fatta cardia ci sono le fazioni fazioni di cardia cacciatore di mostri fonte di ossidiana note questa fazione non può essere scelta in fase di creazione e avanzamento del personaggio gindale il cristallo ministero dell'antica biblioteca ordine di avorio postini esploratori best best fazione ever e quindi voi scegliete la vostra fazione la fazione è importante perché se avrete dei compagni di fazione in gioco succederanno delle cose specialmente man mano che si evolge il 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 gioco dopodiché voi fate il vostro personaggio normalmente ok con livello e via dicendo se senti che cose io in questo caso qua ho artefice 3 tiratore 5 devo fare il livello 9 perché ho fatto anche l'ultima sessione devo fare il livello 9 ma molto spesso lo faccio adesso ovviamente sono con voi lo faccio quindi avrò 54 27 pm 39 artefice 3 tiratore 6 pam maestria con armi a distanza posso arrivare al massimo a 4 quindi metto 4 e desti più int più 4 livello personaggio 9 salviamo file salva con nome fabula chronicles livello 9 salva fatto come vedete l'avanzamento pg è molto molto semplice voglio arrivare subito al 10 perché dopo voglio prendere il livello da canaglia per prendere appunto ruba spirito perché io lavoro molto con i punti inventario e avere sempre cose inventario e docta questo qua non è importante perché nella season 1 cardia è quella cioè è quella che è stata inventata nella season 0 era stata utilizzata solo per 10 sessioni l'abbiamo l'abbiamo ricciucciata ovviamente cioè l'ambientazione è quella che è stata creata col gruppo eh cardia gemelli sovrani gemelli è la stessa identica cosa è semplicemente 500 avanti anni nel futuro ma il resto è uguale identica sputata quindi è questa cosa qua è identica ciao ciao The Comic Storm buon lavoro i legami all'inizio della sessione si scelgono due legami adesso due poi man mano aumenteranno con dei giocatori o con in questo caso qua io ce l'avevo uno con Shodono con i puntini esploratori sì sì sono stati esattamente di nuovo tutti quanti e per il resto dopo è classica classica di Chronicles classica sessione di fabula ultima quindi questo è dopodiché ci sono tutti i personaggi iconici i luoghi iconici di card i pd i png iconici che vengono man mano aumentate ad esempio il registro degli aggiornamenti vedete c'è stata versione 1 primo rilascio della guida strategica ufficiale della stagione 1 versione 1.1 aggiustamenti minori ai test e correzioni di errori tra i capitoli testo corretto affinché siano preverse tre diverse eccezioni ambientazione aggiornata due nuove fazioni non giocabili il fronte di Ossidiana e società di arca e incontra Magnus Fortebraccio lord dell'avanguardia modifersione 1.2 modifica le plassi aggiunto opzione per inserire gli arcane presente nell'Atlante i Fantasy tra i capitoli è possibile selezionare anche gli oggetti rari pubblicati nell'Atlante i Fantasy ambientazione aggiornata non è più possibile creare PG provenienti dalle isole climatiche immagino che chi l'ha aggiornato capisca il perché scopre il lume nel distretto dei divertimenti quindi viene viene aggiornata di volta in volta la guida ok perfetto ho capito Fabula Chronicles è il gioco di ruolo organizzato dove io ho delle regolettine semplici opzionali in più mi faccio la mia scheda PG sono pronto a giocare come gioco maniera più semplice vado sul Discord di Elite Games ok vado in fondo su Fabula Chronicles ok clicco Fabula Chronicles Bacheca Chronicles stagione 1 capitolo 5 stagione 1 capitolo 5 scheda del genere sul tavolo domani sera su qualche la messa master sappiate che comunque domani l'avventura 5 si chiama il palazzo di sol e soprattutto c'è anche richiesta Chronicles se qualcuno vuole vedere 107 ha fatto già una sessione per stasera venerdì alle 21 oggi durata 3 ore è il capitolo 1 Fabula Nova quindi se qualcuno vuole giocare ce l'ha stasera può giocare a Fabula Chronicles il primo capitolo tutta informazione sui Game Master la discussione su Fabula Chronicles e il riassunto dei capitoli chiunque vuole giocare può scrivere anche il suo riassunto e caricarlo quindi come faccio a giocare a Fabula Chronicles senza sapere nulla e dico vado sul sito di Elite Games voglio masterare faccio una richiesta ok si fa qua proprio in Fabula Chronicles una richiesta richiesta Chronicles quindi io vado qua e scrivo la mia richiesta oppure vado in Bacheca Chronicles e mi scrivo mi scrivo per giocare ok io conosco Fabula oppure a me piace masterare voglio masterare cosa devo fare io vado su Fabula Chronicles e mi scarico il primo episodio naturalmente quello che vi consiglio di fare è mentre guardate l'ambientazione e le altre cose ci sono un bel po' di cose ad esempio c'era la mappa del mondo cioè ambientato a Cardia com'è fatta Cardia ecco com'è fatta Cardia ci sono 4 macro isole con Geminis Thorax Emas Rubinia e l'isola volante di Concordia questa season è ambientata a Geminis adesso ciao Lore è ambientata a Geminis quindi io quando farò giocare ai miei amici gli butto sotto la scheda gigantesca di Geminis come è diventata Geminis adesso eccola mappa di Geminis man mano che si liberano dei posti vengono aggiunte le scritte Gran Magiporto e la città di Lumen io ho la mappa ho le regole per giocare a Fabula Chronicles so come giocare a Chronicles o mi sono scaricato mi sono letto l'ambientazione cosa devo fare devo scrivermi l'avventura scrivo quello che voglio no vado su Fabula Chronicles vado su Fabula Nova S1 capitolo 01 Fabula Nova l'ho scaricato apriamo come è fatto un capitolo domanda per chi si unisce la prima volta sia da master che da gamer stiamo meglio partire da Chronicles 0 se si volesse essere pronti per la multitavola del play cosa consigli niente 0 è una campagna completa è il preludio di 500 anni prima di quello che succede ma non è obbligatorio assolutamente aver giocato alla season 0 per ciò che riguarda la multitavola del play ve lo ripeto non è di fabula Chronicles è di fabula ultima magari daremo degli attestati delle cose delle armi che si possono utilizzare dopo in Chronicles ma è di fabula ultima la multitavola io mi scarico fabula Chronicles stagione 01 fabula nova cercherò di non fare spoiler per stasera gran magi porto di geminis 499 dopo la notte delle lacrime la notte di capodanno l'inizio di un nuovo secolo è l'alba di una nuova era per cardia ma anche di una nuova minaccia materiale riservato al game master attenzione agli spoiler ho messo questo qua perché così dopo vi evito uno spoiler gigantesco bentornato avventuriero te l'avevo detto che ci saremo rivisti no? ti do il benvenuto in fabula Chronicles prima di iniziare voglio ricordarti che ciascun capitolo è pensato per essere giocato da un gruppo composto da un game master e quattro giocatori in una sessione di circa tre ore incluso il tempo dedicato alla creazione condivisa un repute di forza del gioco di ruolo fabula ultima è la narrazione condivisa che permette a tutti i giocatori di partecipare attivamente alla creazione del mondo ed inserire o modificare diversi elementi nel corso dell'avventura per non puigare di dolcezza di dolcezza questo caratteristica così importante di verti di fabula ultima ogni capitolo di fabula Chronicles comprende alcuni elementi testuali uguali per tutti i gruppi di gioco mentre le restante parti soprattutto quelle indicate tra parentesi quadri come ad esempio insediamento o capo sono totalmente plasmate da te e dai giocatori rendendo così unica ogni sessione esempio insediamento potrebbe corrispondere a un oasi nel deserto abitata da mercanti allevatori bestiame o un villaggio in montagna isolato dal resto del mondo nel primo caso il capo potrebbe essere un anziano saggio dalla pelle bruciata dal sole con lunghe vesti di sete e un turbante mentre nel secondo potrebbe trattarsi un arzilla montanara con la passione per il formaggio di capra sentiti libero di adattare le caratteristiche fisiche e comportamentali dei PNG incontrati alle esigenze del gruppo cambiando età identità di genere e altri frattoli rilevanti per la narrazione ricorda però che non sarà possibile modificare in alcun modo i PNG codici se dovessi avere dubbi riguardo la conduzione del gioco puoi consultare la guida strategica ufficiale Fabula Chronicles o il documento di errata e FAQ per Fabula Ultima buon divertimento e non dimenticate avventura scoperta e cooperazione sono queste le vere gioie di ogni esploratore dell'ignoto sommario antefatto si no se vi dicendo allora qua me lo devo zoomare perché sennò vi tiro uno spoiler devastante per chi giocherà stasera dov'è? qua eccolo sono passati 500 anni dall'ultima volta che le forze del mar hanno attentato l'equilibrio di Cardi e della sua pace la regia dei demoni e le sue scure schiere stavano portando distruzioni e scompiglie nel regno dell'unione finché in grandi eroe non sconfissero scuola regina durante la notte delle lacrime un momento storico che ha riportato la pace dell'intera unione e ha costituito a tutti gli effetti l'inizio di una nuova Cardia tanto che il calendario è stato fatto partire da quel giorno dividendo gli eventi precedenti da quelli successivi con la dicitura PL prima delle lacrime e DL dopo le lacrime per cinque secoli l'unione ha vissuto un periodo di grande prosperità e progresso Cardia non è mai stata tanto unita e florida e persino le remotissime inaccessibili isole climatiche sono state infine esplorate dai membri delle odierne fazioni riaprendo i contatti con queste regioni lontane per troppo tempo rimaste isolate dal resto di Cardia sotto lo sguardo benevolo dalle tre sorelle gli astri cardini di questo mondo l'unione sembra proiettata verso un futuro sempre più roseo li metto un secondo così non devo evitare di farvi spoiler per vedere ecco qua questa parte iniziale questa qua gialla è l'introduzione ed è quella che tutti i giocatori di qualsiasi sessione di Fabula Chronicles di Fabula Nova questa prima sessione di Fabula Chronicles leggeranno quindi tutti tutti quelli seduti a un tavolo tutti quelli seduti ad un tavolo le leggeranno riceveranno queste informazioni cantori poeti e filosofi hanno versato fiumi di inchiostro e sforzato più di una corda vocale nel prodigarsi di sperticate ovazioni su una meraviglia rappresentata dallo scherale notturno di Geminis Geminis la più grande nazione dell'unione l'isola divisa il centro di tutto l'axis mundi beh per quanto vere fossero le loro parole Geminis non è mai stato bella come stanotte l'ultima dell'anno 499 dopo le lacrime di L l'inizio di un nuovo secolo per tutta l'unione nel fresco cielo primaverile la bella la più piccola delle tre sorelle illumina una volta prodiga di stelle mentre gli odori dolci e vivaci della natura in fiore si mescolano a quell'invitante di una nazione che si prepara a festeggiare in questa notte speciale tutto il regno ha indossato il suo abito migliore non c'è isolato o distretto che non si prepari ad ospitare un qualche evento speciale sia esso per celebrare l'anno nuovo o per ricordare la notte fatale che ha dato origine al nuovo calendario di Carlia la notte delle lacrime ovunque si odono fanfare di bande sinfonie di orchestra e annunci festosi e gente che trattiene il fiato per il prossimo grande evento ma nessun evento è speciale come quello previsto al distretto del Gran Magiporto qui entro poche ore verrà fatta la storia non dovrebbe essere una sorpresa che i biglietti per questo incredibile evento siano esauriti da tempo queste informazioni qua le leggono tutti tutti quanti se leggeranno quindi tutti quanti avrete l'inizio tutti hanno lo stesso inizio nel mezzo giocano cose diverse perché appunto c'è la creazione condivisa inseriranno degli elementi del gioco ci sono delle tabelle randomiche su cui tirare e poi l'ultima parte del gioco ci sarà un altro di questi riquadri identico che porterà alla lo stesso testo così tutti quanti quando scriveranno la volta dopo avranno avuto l'inizio uguale la fine uguale nel mezzo avranno giocato cose diverse e si porterà al tavolo di gioco le cose che hanno giocato quindi per rispondere agli smikim non serve che tu abbia giocato la season 0 se vuoi la giochi se no non è obbligatorio dunamanser ah una domanda generica è molto bello che ci siano segnati i tesori spirituali da rubare ma posso usarli come drop se nessuno del party li ruba si certo campagna caseriga puoi fare quello che vuoi ricordati dunamanser che tu stai giocando la season 0 perché nella season 1 non c'è più ruba spirito l'abbiamo visto prima campagna caseriga è una cosa che puoi fare quello che vuoi puoi cambiare le cose puoi fare più creazioni condivise e via dicendo perché hai sempre gli stessi giocatori quindi io ho la parte iniziale ho la parte iniziale ho la mia scheda e ho un'avventura intera vado giù veloce così non vi faccio spoiler un'avventura intera ok con anche disegnetti particolari c'è c'è anche le opere di Magalotti c'è sempre un'arte originale in ogni in ogni avventura e infine c'è la parte finale con la parte anche qua da leggere quindi è identica per tutti ce ne sono al momento oggi esce la quinta il palazzo di Sol oggi è un'avventura molto importante se qualcuno conosce Final Fantasy il 7 in particolar modo il 14 e conosce Gold Saucer oggi è una puntata a Gold Saucer abbiamo rivisto molto la creazione condivisa molto ovvero ovvero la struttura dell'avventura di oggi sarà intrufolarsi nel palazzo di Sol che è un grandissimo casino creazioni condivisa per creare le attività del casino che dopo andrete a giocare quindi voi direte voglio giocare alla mega roulette russa voglio giocare alla a la mega roulette voglio giocare alle slot voglio giocare a un blackjack voglio giocare vi inventate il gioco i giocatori poi giocano le attività che hanno fatto poi bisognerà intrufolarsi da qualche parte e poi c'è uno scontro molto sazio lo scontro ad esempio andrà modificato in base a quello che vorrete combattere voi quindi il master vi dirà che tipo di mostro è davanti voi lo andrete a descrivere e poi ci sarà lo scontro ed è autoconclusivo non è che dopo lo scontro succede qualcosa finisce lì e c'è una parte da leggere assieme così è stato fatto in modo tale che tutti quanti possano giocare una cosa molto simile per chi volesse su disco ho aperto la richiesta per fare una sessione capitolo 5 stasera quindi si stanno già aumentando le richieste richieste chronicles c'è quella di 107 per giocare il capitolo 1 quella di bislacco per giocare il capitolo 5 questa sera e quella di se non sbaglio c'è un altro master domani sera il capitolo 5 di nuovo quindi sessioni ce ne sono sempre 8TR3R3R ha sempre 107 anche domani sera perfetto quindi 107 ha fatto anche domani sera quindi ce n'è ce n'è di roba non ho mai giocato a chronicles ma mi piacerebbe di sera giocarci non conosco non conosco fabula posso giocarci si ragazzi non avete mai giocato a fabula questo è fatto no no non in chi siamo siamo in lei è fatto per giocare per iniziare a giocare a fabula è diverso c'è fabula chronicles serve per far conoscere fabula ultima quindi non è in porc voi non avete mai giocato a fabula e volete provarlo fabula chronicles è perfetto per iniziare a giocarlo master vi aiuterà a fare la creazione condivisa master vi aiuterà a fare il pg non ci sono problemi 0 0 0 problemi kit of all 3 c'è da considerare che i primi capitoli considerate che sono introduzione alla trama ha senso che siano meno autoconclusivi perché è una premessa importante allora kit sni nel senso a me piacciono però gli avrei preferiti più autoconclusivi ed è una delle domande infatti che ci sono vi ricordo mi fate una cortesia mi dite se questo link adesso si vede fino ad oggi c'era la pausetta di pasqua già stanotte sono trovati annunci messaggi si sta vedendo in inglese funge perfetto bislacco ottimo vedo che state già rispondendo parecchio ci sono già comunque otto risposte che sono più che più più che buone cioè vediamola assieme per chi è arrivato adesso appunto adesso che abbiamo fatto la premessa quindi sapete le cose che ci sono è hai giocato la stagione adesso posso risponderci anch'io si lo rifacciamo assieme no che cazzo sto facendo sto qua si stai giocando la stagione 1 di fabula chronicles si sono appena andati in pausa ne approfittavo di passare a fare un saluto essendo che tra fatto due lavori è un basico quasi più su qui eh eh niki purtroppo posso posso capirlo posso capirlo bene posso capirlo bene questa è una storia che abbiamo fatto perché appena ha finito il prologo ed è iniziato l'atto 1 quindi ci serve anche per capire se vi sta piacendo o non vi sta piacendo ed aggiustare il tiro perché la cosa bella è che essendo una cosa in divenire si può aggiustare il tiro non è un'avventura stampata fatta e finita no c'è qualcosa che non piace si corregge logico non piace a due persone piace a 50 mi dispiace per le due persone però bisogna seguire quello che vuole la maggioranza no quindi ho giocato la stagione 0 si l'ho giocata tutta svariate volte stai giocando la stagione 1 di fabula si quanti capiti nella stagione 1 di fabula cronical si hai giocato più di 4 perché non solo ne ho giocati 4 vai che ho anche pretestato il 5 vi dicendo ma lo ha anche masterati hai intenzione di continuare a giocare la stagione 1 di fabula cronical si di bestia allora la cosa ti piace più o meno della stagione di fabula cronical la trama mi piace creazione condivisa non mi piace affatto come viene gestita ambientazione mi piace molto combattimento mi è indifferente esplorazione mi piace nella stagione 1 di fabula cronical vuoi giocare più capitoli autoconclusivi a 6 stanti o con finale aperta legati al capitolo precedente e successivo autoconclusivi perché così uno può anche giocarlo come one shot si si sono usati sono usati prologo atto c'è scritto tutto anche dentro le avventure cosa cambieresti o cosa vorresti di essere più presente nella stagione 1 di fabula cronical mi piacerebbe quello che ho scritto prima mi piacerebbe che la creazione condivisa fosse più preponderante e giocarla poi con il gruppo inoltre vorrei scenari con un inizio da leggere e una fine da leggere uguale per tutti dell'inscena dei capitoli vorrei dei capitoli dei capitoli con un inizio da leggere e una fine da leggere uguale per tutti così è più semplice giocare i capitoli anche se se ne dovesse saltare uno ola se decidi non giocare a fabula cronica se non ti ha piaciuto la scelta puoi spiegare se per c'è la tua risposta ho giocato a fabula ho giocato e continuo a giocare invia ok ok quello che vorrei fare però sapete una cosa ragazzi l'ultima domanda non la reggo obbligatoria oppure mettiamo così basta scrivere ci gioco ok perché perché questa è obbligatoria basta ci sono state un bel po' di risposte allora vediamo un attimino state scrivendo bislacco domanda i termini che ho appena usato sì nikki dreamer comunque ho comprato manori fabula ultima tradotto da voi questo non è tradotto mi abbiamo scritto noi fabula ultima è nikki è un gioco nostro un gioco originale nostro e questo weekend lo dirò il mio ragazzo il mio migliore amico al magico mondo dei gdr insieme a dei miei amici che sono già navigati in questo magnifico mondo mamma mia che meraviglia nikki ti auguro veramente una figata devastante un weekend bellissimo ti auguro con tutto il cuore scusatemi ragazzi una telefonata in passato come sempre roba di amazon che però posso rivela essere delle puttanate senza senso potrebbe avere senso la scelta dire qualcosa che è ok la concludo con un one shot assistante oppure di seguire delle linee guida che fanno affrontare le conseguenze legate a momenti chiave delle sessioni precedenti è quello che vogliamo fare esattamente quello che vogliamo fare assieme a complimenti perché è fantastico dato che me lo sono già studiato oh grande grande nikki sì sì l'autore è Emanuele Galletto è il nostro gioco originale noi l'abbiamo fatto sia in italiano che in inglese gestiamo noi la distribuzione in Italia ed in America gestiamo noi proprio il prodotto invece per tutte le altre nazioni l'abbiamo dato in licenza ci sono un bel po' di risposte ed è molto figa questa cosa qua molto molto bella vuol dire che c'è partecipazione perché noi vogliamo che ci sia partecipazione perché se c'è qualcosa che non va bene vogliamo correggerlo ovviamente allora vediamo le risposte le risposte naturalmente sono tutte anonime quindi che sia chiaro potete non vi chiediamo le mail non vi chiediamo nulla per noi è importante la privacy avete visto potete queste qua sono le risposte come le vediamo noi quindi come potete vedere non c'è nessuna nessuna mail è giocata la stagione 0 in Favula Chronicle 13 11 sì 2 no al momento stai giocando la stagione 1 sì quanti capitano la stagione 1 in Favula Chronicle hai giocato più di 4 il 38% 1 il 7% 2 il 15% 3 il 15% 4 il 23% hai intenzione di continuare a giocare la stagione 1 in Favula Chronicle 11 sì 2 no cosa ti piace più o meno della stagione 1 di Favula Chronicles esprimi le tue preferenze uno degli argomenti la trama è quella che sta piacendo più di tutte creazione condivisa non piace e non piace affatto cose importanti come vedete sono i feedback quelli che abbiamo visto l'ambientazione piace molto il combattimento è indifferente bravi perché il combattimento si è figo l'esplorazione piace molto uguale alle stesse risposte che ho dato io proprio nella stagione 1 di Favula Chronicle vuoi giocare più capitoli autoconclusive a 6 istanti o con finale aperte legate al capitolo precedente 7 e 7 abbiamo un 50% preciso allora questa è una cosa molto importante per noi molto interessante cosa cambieresti e cosa vorresti che fossi più presente nella stagione 1 di Favula Chronicles vorrei più creazioni così via giocabili capito che abbiamo una chiusura a 6 istanti e non devo interagire più in G con i PDG conici più agili si da parte dei giocatori la possibilità di poter schierarsi con chi si crede la parte del giusto e meno Railroad allora meno Railroad è una cosa che la capiamo però è difficile non mettere un Railroad in un gioco organizzato ragazzi perché bisogna andare in una certa direzione in base noi alla fine adesso di ogni capitolo faremo una survey così le persone potranno aggiungere le loro opinioni alla fine di ogni capitolo ho giocato solo due capitoli troppo poco per rispondere in maniera utile grazie anche questa qua è una bella risposta aprirei le parti creazioni condivisa grandi e renderei i capitoli più autoconclusivi in modo da permettere ai nuovi giocatori di serisi più facilmente perfettamente il mio pensiero ridurrei anche gli incontri casuali che possono occupare molto tempo e non sono particolarmente rilevanti bellissimo suggerimento i giocatori sono vittime di una trama discutibile e non hanno modo di giocare fuori da questi schemi prestabiliti lo stesso destino tocca ai poveri game master che non fanno i salti mortali prendere quanto meno godibile o coerente ciò che hanno fra le mani non è un fumetto da leggere è un gioco di ruolo perfettamente d'accordo ecco perché per me la creazione condivisa è importante perché se io con i miei giocatori creo la creazione condivisa e poi da master la faccio giocare con gli spunti dei miei giocatori è più divertente bellissima risposta e grazie comunque avete tutti quanti siete tutti educati e ci state dando dei bei suggerimenti sapete 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 che noi con voi siamo sempre molto diretti molto schietti sia nel bene che nel male e quindi avere un confronto così per noi è veramente importante al momento trovo ancora un po' particolari combattimenti molto interessanti dal punto di vista della storia perché è ben posizionato in tre capitoli ad esempio nei primi tre capitoli è quasi più probabile è consigliabile darsi la gambe mentre in quattro capitoli il combattimento è molto semplice è molto carino invece la scelta della ricompensa a titolo grazie grazie mille avere un'ambientazione a trava maggiormente definita consente sicuramente di avere capitoli più definiti e personalmente apprezzo che con la creazione condivisa si possa andare a definire maggiormente i dettagli dei singoli luoghi tuttavia la narrazione più lineare rende più complesso poter giustificare il giocare capitoli in ordine sparso o giustificare a livello narrativo come il proprio PG si separa da un certo gruppo e si aggrega ad un altro esattamente il il discorso dei capitoli autoconclusivi i capitoli quindi risultano molto più collegati tra loro che uniti alle atmosfere più cupe della trama rischiano di rendere tutto più opprimente tanto per i PG quanto per i giocatori riuscire ad avere dei momenti più distensivi rilassati che possono permettere ai PG di interagire con le ambientazioni addirittura con i PG iconici senza l'incommenza della morte che continuano a prestarli potrebbe essere apprezzabile d'accordissimo mi piacerebbe che la creazione condivisa come nella stagione includesse i giocatori nella generazione del mondo oltre solo di alcuni PNG che risulta sulla trama principale piuttosto marginale vedo che siamo tutti molto allineati sulla creazione condivisa è una cosa che apprezzo molto perché anche per me lo è è il motivo per cui sono entrato ad aiutare a dare una mano agli altri era possibile creare col proprio gruppo gli insediamenti in cui si svolgeva la festa il tema della festa i personaggi principali della trama eccetera ho scritto io quel capitolo più chiarezza sui ruoli dei personaggi e fazioni è bella la sorpresa ma l'aver messo troppo in trigo nel edificio la gestione condivisa le interpretazioni non è chiaro che sia dei personaggi in scena mentre nella stagione 0 le scene del GM hanno definito l'antagonista principale in modo più diretto no ho già mangiato grazie Erika ha un'altra cosa più riferimenti allo stato scusate ha un'altra cosa più riferimenti allo status da JRPG MMO magari potrebbe rovinare quello che potrebbe essere il realismo della narrazione ma per ora quei spragi casi come il Dance Dance roccia luce sono stati abbastanza apprezzati ah ho capito ho capito mi piacerebbe che la creazione condivisa fosse più preponderante giocare poi con il gruppo inoltre vorrei dei capitoli con l'inizio da leggere una fine da leggere uguale per tutti così è più semplice giocare i capitoli anche se ne dovesse saltare uno l'ho scritto io e avevo difficoltà a leggere quello che ho scritto non sono un coglione combattimenti più equilibrati e meglio strutturati rispetto alla stagione 0 perfetto quei combattimenti più strutturati allora cambierai la gestione della creazione condivisa mi piace la gestione condivisa è in ogni commento vorrei più trasporto narrativo nei capitoli e non sembrare che il mio pg sia trascinato a fare cose secondarie quindi una semplice filler vorrei che le fazioni come la stagione 0 siano più presenti in questa prima parte della stagione è sempre sembrata più importante l'origine dei pg che la fazione di cui fanno parte anche a livello di trama mi sembra che sia più la contraposizione origine dei pg contro origine dei mici malvagi fuori quei primi capitoli vorrei che ci fosse più attenzione su possibili implicazioni di trama e su cose i giocatori potrebbero voler fare anche per evitare grandi retcol come quello accaduto dopo questi primi capitoli infine apprezzo l'idea di un boss che non si può sconfiggere ma vorrei che fosse gestito con più attenzione perfetto essere stato da fazioni sconosciuti mi ha deluso molto e anche che nonostante il boss non si potesse sconfiggere il combattimento non è stato impattante a livello emotivo ma più una lunga tortura ottimo sicuramente avendo giocato due capitoli aspettivamente ho finito l'introduzione prima di pronunciarmi apprezzo la storia continuativa capisco però che una struttura del genere possa risultare più ostica per i gruppi che cambiano ogni volta e mi piacerebbe creare più di un mondo condiviso ok possibilità di usare pg originali delle isole climatiche non vedo bisogno di proibirlo al momento soprattutto dopo il capitolo 4 si possono si potevano creare pg originali adesso sono nemici quindi è un casino un problema di base di chronicles per me il sistema di zenit avrei preferito un sistema di loot personalizzato e alcune sessioni precise infamolo ottenere oggetti armi e accessori armature una delle cose più belle magari la presenza di artefatti o armi antiche particolari da potersi portare dietro in più sessioni avendo decidere chi del party se la porta dietro potrebbe essere interessante ma con gli zenit si possono andare a comprare poi quando si cresce usciranno lutta eh ragazzi anche un po' di cose sull'esplorazione ma in questa season sembra che sia stata migliorata in positivo con le scoperte per i tiri di viaggio mi ricollego a quello di prima i giocatori più tenaci e curiosi cercherebbero perfetto bellissimo feedback allora stai deciso di non giocare a FABULA CRONICS o sono te piaciuta la stagione 1 puoi spiegarci la ragione se ci giochi invece basta scrivere ci gioco allora opzione 1 io la sto giocando vorrei se ci fossero meno sessioni focalizzate su fare minigiochi nei parchi divertimenti in pieno periodo di guerra sotto un attacco nemico bastava avanzare la prima sessione con minigiochi e venti perfettamente d'accordo voglio continuare a giocare mi piace continuare a giocarlo si vede la risposta precedente la trama fa quella a tutte le parti le scelte sono obbligate e sono in antitesi con il buon senso con lo spirito di un gioco di ruolo e con l'idea che i giocatori sono gli eroi della storia o che la risposta precedente purtroppo ragazzi sono anonime le risposte quindi ho un pochettino difficoltà al momento ho aspettato di giocare più cattivo farei un'opinione più concreta posso dire che non avrei specificato la guida dell'atmosfera generale delle sessioni il primo esempio è che non sarebbero dovuti creare personaggi provenienti delle visioni climatiche solimamente no era giusto che le personaggi facessero personaggi delle visioni climatiche nei primi capitoli secondo me è una cosa interessante se tu stai facendo una sessione del gioco di ruolo col tuo master e succede che è successo qualcosa alla tua fazione può essere un casino ma è evoluto però grazie grazie per il film di continuare a giocare dovrò molto dire di fuori il formula colico per quanto riguarda il gioco organizzato però mi piace la possibilità di poter condividere la stessa avventura con le altre persone per poter raccontare ascoltare diverse ho giocato e continuo a giocare il formula continuo a giocare fa orca misera un tema formula colico mi è sembrato una grande occasione mancata la stessa zero ma posto evidenzi i punti di forza di queste idee sui punti di debolezza e proprio questo mi sembra tendenzialmente strano che proprio i punti di forza in queste disegno siano venuti meno per di tutte la canzone condivisa che soprattutto nel capitolo 4 è diventata marginale solo per parte secondaria e soprattutto per cavolate non potrei essere più d'accordo il boss come ho scritto anche nella stessa di prima era carino a livello di costruzione e la gimmie che era molto bella ma la sua imbatterità potrebbe essere usata a livello di trama molto meglio preferivo essere sconfitti estremamente e molto velocemente tutto questo in zapato si alzi con un po' di fastidio dico questo se come giocatore se come master viene interpretato i ruoli in questi 4 capitoli in fine della costruzione sui binari anche la S0 è costruita sui binari ma si sentiva molto meno che in questa S1 perché non sono autoconclusive secondo me ed è il motivo perché abbiamo voluto fare questa survey tutte le domande con gli incontri con i luoghi alla fine risultano troppo corpose ed inutili perché non danno nulla ai giocatori solo solo una lunga spiegazione del master risulta uno specchio per l'allodo è veramente mal riuscito per non far notare perché se per caso un giocatore capito di saltare la sessione inizia un iter di recupero infinito giustissimo per concludere una cosa peggiore è stato il retcon sui pg delle isole climatiche se non si poteva giocare personaggi provenienti da lì doveva essere chiaro fin dall'inizio ma si poteva dall'inizio il problema è che dopo diventano nemici e quindi se uno fa un personaggio delle isole climatiche è stato fatto apposta che dal capitolo 4 cioè se tu inizi nel capitolo 1 puoi giocarlo il personaggio delle isole climatiche è proprio una dicotomia sull'origine sembra più la base verrà presente in questi capitoli e anche più interessante a livello di trama ovviamente rendendo il capitolo di tutti il margine ha presentato delle fazioni che sembrano solo un elemento di sfondo le fazioni torneranno a essere importante ciao frango ciao frango bentornato io gioco e voglio continuare a giocare anziché lo farò delle one shot sull'inizio climatiche ci gioco ho deciso di giocare perfetto grazie molto 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 bello molto bello molto bello molto utile cosa più importante di tutte grazie frango frango c'è nel senso a livello 3 gli ammoramenti di franco fanno sempre volare grazie mille franco grazie infinite allora scusatemi non so se ho letto se ho letto la tutti i commenti che ci avete che ci avete mandato ci stanno continuando arrivare risposte veramente bello grazie grazie io quello che non capisco è se io gioco col mio gruppo un capitolo influisce sui giocatori degli altri no non influisce sui giocatori degli altri mister tonino quello che va a influire saranno le survey che andremo a fare alla fine di ogni atto in base alle decisioni fatte cambieranno in generale quello fatto negli atti successivi il combattimento è possibile sì veramente ragazzi cioè il combattimento è possibile anch'io l'ho shottato il combattimento al 3 l'ho fatto sia da master che da giocatore è stato un parto questo si sono creato tutti i personaggi con i 10 azestrezze molto dipendenti su di esse quindi il boss nel capitolo 3 con il suo incantesimo di status è stato devastante ogni volta che l'ho giocato eh sì posso 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 veramente immaginarlo allora quindi la cosa la cosa importante vedo che avete tutti quanti state condividendo questo pensiero è il fatto del della creazione condivisa la creazione condivisa è capitoli autoconclusivi che è fondamentalmente quello che penso anch'io siamo perfettamente d'accordo quindi c'è da fare più creazioni condivisa eh per farvi un esempio il il capitolo 4 il capitolo 5 che andrete a giocare oggi tutta la prima parte la prima ora e mezza la deciderete voi il palazzo di sol è il fatto che ci sono queste persone che stanno giocando ma com'è che gioca sta gente che fuori c'è una guerra e lo capirete viene spiegato che cazzo sta succedendo ma soprattutto cosa giocano cosa fanno come fatto le cose lo decidete voi lo fate voi quindi giocherete quello che deciderete voi non ci sarà più il fatto che deciderete come sono fatte le mura del casino no farete voi il casino farete voi i giochi con per il master ci saranno degli aiuti eh se hai deciso di giocare una cosa del genere puoi far fare questo tipo di miligioco e altre cose dopodiché ci sarà una parte di intrammezzo e poi un combattimento finale molto figo molto divertente molto Mario autoconclusivo quindi si chiuderà così in modo tale che nella sessione successiva i giocatori si potranno ritrovare con altri gruppi e partiranno all'assalto di qualcosa forse cambiano i capitoli successivi ma nei primi tre ambioni una creazione condivisa era risentata solo il PC che spariva dopo due minuti e la torre è una scala del capitolo tre sì error è questo è questo il problema che non ricevendo feedback non si va a tentativi no ovviamente error tal che vi ripeto ragazzi questo qua è un gioco una creazione condivisa bisogna la fortuna è che essendo scritta di volta in volta si può andare a parare abbiamo ricevuto io ho iniziato personalmente a chiedere i feedback abbiamo iniziato a chiedere i feedback abbiamo fatto adesso alla fine del prologo questa mega survey e quindi via serve esattamente a questo e vogliamo che la creazione condivisa sia molto più importante è una delle cose tipiche di Fabula vogliamo che sia importante perché o si dice che la creazione condivisa non c'è noi vi giocate una campagna stiamo pensando lo sapete la Fabula Adventures è una cosa che ci stiamo pensando ovvero una campagna di Fabula Ultima dove la creazione condivisa e la spesa dei punti Fabula è un attimino diversa dal Fabula Ultima infatti si chiamerà Fabula Adventures e staranno le campagne come possa essere il tesoro della regia dei draghi via una campagna di Fabula chi ha giocato i JRPG sa che i JRPG sono degli enormi Railroad sono così non è che Final Fantasy 7 è così è un Railroad ci sono delle cose varie ma comunque è un Railroad fare quindi delle campagne più Railroad a proposito le idee che voi di League Games avete citato il season 0 e la pre-season 1 circa le chat tra i PG più missioni speciali al suo interno il forum e l'avventura proposta di video sono in considerazione no non sono più in considerazione bislacco non c'è tempo per farla purtroppo ne stiamo vedendo per delle cose per fare della season 2 la season 2 sarà Tecno Fantasy sarà totalmente diversa ci sarà nuova creazione condivisa e via dicendo Docta il punto è che se tu dopo hai fatto un finale sei in gruppo con un altro che ha fatto un altro finale è un casino la difficoltà è questa ci si arriverà a una quadra ragazze no no vabbè le Fabule Adventure saranno una cosa totalmente diverso ovvio ci saranno diversi nemici alla fine un po' sarà molto simile perché dipende da cosa scegli in base al path che scegli avrai dei nemici diversi si vede subito l'amore che lì di mettere i suoi progetti se fossi inserato avessi fatto il form avessi continuato per la vostra strada ah sì 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 assolutamente assolutamente sì Docta ovvio 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 ma sono stati tutti i JRPG che ci sono più finali con anche l'Hand Root la Golden Root ovviamente alla fine degli ogni capitoli c'è scritto se i giocatori hanno fatto questo c'è la Golden Root se i giocatori hanno fatto questo non potranno più sbloccare il finale top è così come tutti i JRPG che si rispettino c'è il finale poi ci sono altri finali ah Error Talker servirebbe anche qualcosa per mettere più in giochi i propri personaggi grazie alle informazioni della Trata e Fantasy è possibile creare personaggi davvero davvero fighi anche a livello di storia magari tipo dei buchi dei diversi capitoli per mettere qualcosa dei personaggi giocanti Error sai che non ho capito non l'ho capito scusami ne intendi c'è anche il background dei personaggi all'interno il background verrà inserito se qualche giocatore farà qualcosa di particolare un tipo di avventure spin off in cui si concentra sui PG sì ma esattamente allora scusate Error penso di aver capito è il motivo per cui faremo delle creazioni condivise che vi andrete a giocare consigli su come creare degli enigmi delle campagne ci sono dei siti appositi dei siti appositi ora vediamo se mi ricordo come si chiama c'era proprio Gigsaw qualcosa su questo reddit ce ne sono a decine create straps puzzles con puzzles enigmi e via dicendo ricordati sempre che il problema del enigmi in fabula è che col sapiente ti ara tutto fondamentalmente magari ecco grazie scusami Error grazie per la spiegazione magari un intalbasta dentro delle guide dei capitoli per dire qui puoi dirmi te magari sei il cattivo della tua storia magari un oggetto che stavi cercando sì però il problema è che dopo che rilevanza ha negli altri capitoli è questo il punto una volta di pensare che un conto è se te la giochi in casa reccia in casa reccia puoi fare quel cazzo che vuoi ovviamente ma se te la giochi in casa l'inghia è un pochettino diverso quindi diventa un attimino più 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 complessa come cosa grazie grazie votiamo votiamo anch'io lì è molto è molto è molto figo chiedetevi se ne ha dato sapete quanto mi piace darvi le cose quello che vi consiglio installatevi ragazzi se avete un po' di difficoltà con con il con l'inglese c'è di pel che è il miglior traduttore che esista che è anche una no una cosa come si chiama no una cosa chrome una no non mi viene un'estensione di chrome che se voi andate a selezionare vediamo se qua c'è guardate vi faccio vi faccio vedere è una cosa molto bella magari non non conoscete bene l'inglese non è non tutti nascono non bisogna sapere per forza l'inglese è importante ma capisco tu selezioni tutto ti viene fuori questa cosa qua fai traduci e ti viene fuori la traduzione pg entra in una strana stanza lunga 15 metri larga 15 e inclinata verso l'alto man mano che ci si adentra nella stanza la stanza è vuota appunto una grande sfera di vetro che pende dal soffitto in fondo della stanza sembra che si piena d'acqua ma il fondo è pieno di migliaia di monete e armi di metallo e simili tuttavia se i pg cercano di raggiungere il tesoro distruggendo il vetro si ritroveranno nei guai l'acqua è in realtà un cubo gelatinoso che è stato intrapponato nella sfera e abbia tenuto la forma del suo contenitore manterrà la forma del suo contenitore anche dopo la distruzione del vetro quindi i pg vedranno una sfera d'acqua che cade colpisci il pavimento rimbalza ed instano tra il lungo il pavimento inclinato verso i pg perdendo velocità per tutto il tempo fighissimo allora Starlord certo mi concedesse una domanda sulle difficoltà di creazione di un mondo fantasy oppure di estroftopic dimmi dimmi ultima domanda dai poi poi ragazzi ci lasciamo che vado a a bermi un caffè e poi mi sono devo buttarmi in come un pazzo alla release del capitolo 5 stanno continuando ad arrivare un sacco di risposte intanto grazie ragazzi me lo rimetto qua se qualcuno non l'ha fatto quindi Star se hai una domanda chiedimi pure non arriva la risposta alla domanda di Star a meno che non sia scrivendo un papiro cosa che dubito detto ciò alcune cose ragazzi alcune cose importanti nella prossima settimana inizia inizia Time to 40k questo bellissimo format fatti da ragazzi di Time to Dice dedicato a 40k ci sarà una campagna di streaming di Warhammer 40.000 di Wrath & Glory ci saranno un sacco di ospiti con pittori scrittori e via dicendo e la settimana prossima venerdì prossimo avremo qua come ospite il master della campagna la stropate e i ragazzi di Time to Dice quindi faremo una live dedicata a questo bellissimo progetto lo trovate sul canale Twitch di Time to Dice importante aspettate che ve lo linko ve lo linko Time to Dice quindi troverete tutto sul loro canale Twitch molto molto figo molto figo allora un aspetto di cui non si è parlato è che secondo me è un peccato e toglie alcune opzioni di classi e c'è perché sbilanci il gioco organizzato ebbè non dobbiamo togliere per forza Dokta sarei troppo sbilanciato uno fa un arcanista spacca tutto la storia di un personaggio in favola viene creata dal giocatore quindi poi tocca a Terry collegare gli elementi che ha inserito con la storia più grande in cronico in modo da mettere tutte le proprie emozioni in un cattivo che potrebbe collegarsi tipo le isole climatiche certo il fatto che tu inserisci le cose nel tuo gioco assolutamente è assolutamente error però cioè tu devi andare a inserire non il master tu come giocatore a Star Lord allora sto finito in un giro depressivo grave perché mi sembra che non avessi né creatività né abbastanza capacità per creare qualcosa di sostanzioso ma anche se mi serve di balbettare brucio il desiderio di raccontare dovrei rendermi secondo te o anche se fossi la persona meno pertinente portata per farlo ma che cazzo dici Star Lord ma assolutamente no ma che renderti ma sei pazzo fratello non arrenderti vai allora l'abbiamo detto un sacco di volte hai il blocco dello scrittore capita capita è qualsiasi gioco di ruolo è un'ambientazione uguale per tutti fabula ulti ovviamente è stra easy perché hai il blocco te ne sbatti le balle sono i giocatori che buttano spunti fabula per inserire le robe in gioco quindi va benissimo vuoi creare una campagna allora la guida del Dungeon Master di quinta edizione è eccellente ma il più eccellente di tutti è la guida del Dungeon Master Pigro di Slyfurish ti faccio vedere una cosa al volo poi ragazzi chiudiamo solo perché voglio aiutare Star Lord che è un attimino bloccato e per me la soddisfazione di un giocatore di ruolo è la cosa più importante di tutte allora un secondo che vado su Lidelp guida del Dungeon Master Pigro allora questo qua ti faccio vedere una una cosa Star Lord guida il Dungeon Master Pigro c'è guarda pensare alla sessione preparare il cervello del GM fare gli esercizi abbracciare la verità trucchi del Dungeon Master Pigro considerazioni finali la cosa importante ad esempio tu non sai come fare dei luoghi mi dicevi l'ambientazione se non sbaglio vai in costruire una campagna pigra esplode tutto ovviamente sviluppare la campagna a spirale questo approccio si finisce il sviluppo della campagna a spirale di un metro comune di Warbirding con questa tecnica il GM costruisce la sua campagna iniziando dal luogo di partenza dei personaggi curando i dettagli di immediato interesse per loro e per i giocatori e quello che potrebbero entrare in gioco nella sessione successiva uno o due uno o due sessioni basta non si preoccupa dei particolari che riguardano il resto del mondo perché non sa dove si dirigerà la storia invece si concentra sui personaggi sui luoghi nelle loro vicinanze e su qualunque elemento locale che possa ricollegarsi a ciò che interessa direttamente come fare un luogo figo e sviluppare luoghi fantastici comincia con un nome evocativo te lo leggo te lo leggo solo qua le storie non ti sto a leggere tutto dal paragrafo comincia con un nome evocativo inventiamoci un luogo evocativo il ponte del pirata sussurrante aspetto dei luoghi è un pirata tra due isole volanti è un pirata è un ponte tra due isole volanti in cui che sembrano la testa una la testa di un un teschio e l'altro con la forma di un cappello da pirata inquissibile al vento del mezzo dieci luoghi fantastici per ogni sessione te ne inventi dieci 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 invece per me è quella che uso più di tutti Shoras fai te stai stendendo che cosa puoi costruire i dungeon quindi checklist cosa devo fare per inventare un luogo annotare un nuovo evotivo annotare un nome evocativo per il luogo il ponte del pirata sussurrante annotare tra aspetti fantastici del luogo è attaccato a due isole volanti una all'aspetto di un teschio e l'altro ha l'aspetto di un cappello da pirata logicamente ricordano l'aspetto montano e il ponte nel mezzo c'è un simbilo del vento che sembra la risata di un vecchio pirata pianificare e usare uno o due luoghi per ora di gioco quindi ogni ora di gioco dura tre ore a sessione fai sei luoghi rendere luoghi fantastici fruttando età e dimensioni quante vecchio quante grande quante giudicete e via dicendo legare alcuni luoghi al background dei personaggi vedi il background dei personaggi e lo colleghi disegnare mappe esplizzate l'indaggio con nomi collegati da linee basta e lo so devo aggiungere alcuni dettagli diventando la parte in cui perdo più tempo sai che invece io scrivo il nome è una piccola descrizione vicino basta ponte del pirata sussurrante un ponte sospeso in cielo legato a due isole che ricordano un teschio e un cappello in cui il vento che ispira nel mezzo ricorda la risata di un vecchio pirata basta se scrivo sai così cosa ci metto si si Duna si si era Slyfury era solo per aiutare per aiutare Starlord che sta vedendo questo manuale è un manuale che io consiglio tantissimo lascia stare con il nostro prodotto voi sapete che io consiglio anche prodotti di altre di altre aziende se sono importanti non me ne frega nulla per me la cosa importante è che voi giochiate di ruolo assieme a per me manuale di una bellezza folle che è scrivere come scrivere avventure che non facciano schifo per me sono due prodotti che ogni game master dovrebbe dovrebbe leggere qua ci sono tutti i consigli su come scrivere avventure che non facciano schifo guardate la prefazione scritta da me la prima volta che ho letto come scrivere avventure che non facciano schifo sono rimasto folgorato dagli infiniti spunti che mi sono rivenuti in mente mentre leggevo e mi sono reso conto che avevo iniziato a scrivere sottolineare e a prendere appunti direttamente sul manuale docta lo so che lo odi so che per molti voi quello che ho appena detto è un'eresia ma questo è un manuale fatto da master per i master consideratelo come un libro da studiare dovete sottolinearlo prendere appunti a piedi pagina attaccare posti dovunque renderlo vostro vedrete quanto vi sarà utile come vi aiuterà a migliorare la scrittura e la narrazione delle vostre campagne e a creare incontri e malvaggi memorabili leggete questo manuale con una matita in mano e annotatelo non vedete quanto è bella questa carta la carta è fatta apposta per scriverci sopra questa carta qua l'abbiamo scelta apposta la prefazione della guida del dungeon master l'abbiamo scritta io e il rosso oltre a essere grandi amici abbiamo a volte delle visioni totalmente diverse ma tutti e due abbiamo follemente il gdr io non sono pigro io sono super pigro nel corso degli anni il tempo per preparare le sessioni gdr è drasticamente diminuito ma la mia volontà di tenere la qualità dalle campagne è sempre alta ha creato in me un mantra prepara meno ma quel meno fa che sia una bomba quello che dico sempre ho iniziato improvvisare di più a trovare nuovi trucchetti per non far calare mai il ritmo ho iniziato a usare sempre più il reskin nocta tu stai morendo insomma ho abbracciato a piene mani il mondo della low prep e sapete una cosa ho scoperto che in questa maniera mi diverto molto di più anch'io quando ho letto per la prima volta questo manuale ho visto che tutti i trucchi del mestiere che usavo in maniera confusionale erano bene esplicati punto per punto e che suggerivano anche soluzioni che mi avrebbero fatto risparmiare ancora più tempo senza sacrificare la qualità delle sessioni ormai è da parecchio che uso i consigli presenti in questa guida non sono guadagnato ancora più tempo ma la sticella delle mie sessioni si è alzata ancora di più Sly con questo manuale ha parafrasato alla perfezione la famosa citazione di Bill Gates sceglierò sempre un master pigro per preparare una sessione difficile troverò un modo facile per farlo quello che aveva detto Bill Gates vi ricordate è sceglierò sempre un dipendente pigro per preparare una presentazione difficile troverò un modo facile per farlo il rosso ha scritto una cosa guardate cosa ha scritto il rosso io non voglio essere pigro ma io ci tengo a fare il DM questo è stato il mio primo pensiero quando ormai svariati anni fa mi trovai davanti dell'Easy Dungeon Master e magari qualcuno di voi avrà lo stesso dubbio mentre inizierà a sfogliare le prime pagine di questo manuale preparatevi a esservi sorpresi preparatevi a scoprire perché la cosiddetta low preparation non è una mancanza di voglia o di passione non è di una regola manuale o improvvisore qualcosa a caso Sly sarà forse pigro ma il suo lavoro è sicuramente quello di un gigantesco appassionato e conoscitore in grado di presentare un approccio pratico e funzionale rimanendo all'interno delle logiche del gioco rivoluzionando per molti il modo di vedere il proprio ruolo come DM al tavolo se siete già vezzi al concetto di low prep questo manuale è una risorsa incredibilmente comoda se state per compiere i vostri primi passi nel mondo dei master pigri preparatevi a scoprire un mondo diverso da affrontare il gioco come DM e l'inevitabile inizio di una ricerca verso stili e modi nuovi di giocare e la cosa incredibile è che dovete solo girare pagina per cominciare detto ciò spero veramente con tutto il cuore che Starlord abbia abbia trovato uno spunto su cui buttarsi assolutamente non bollare fratello non bollare non bollare assolutamente ci sono un sacco di strumenti che ti possono venire incontro anche banalmente sfondarti di anime sfondarti ma come non c'è qualcuno che gira in pagina per me guarda c'è se vuoi c'è il pdf e puoi dirgli avanti 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 e te le sfoglia se hai il riconoscitore vocale quindi diciamo qualcosa puoi trovare comunque scusate buon sorso state tranquilli non bollate mai tutti hanno fatto sessioni di merda io le continuo a giocare sessioni di merda le faccio sessioni di merda quindi c'è c'è ce ne sono ragazzi ci sarà sempre la sessione che viene meglio o meglio delle altre ma non per questo il divertimento totale alla fine sarà inficiato da questa cosa qua detto ciò spero di aver aiutato Starlord vi ringrazio ringrazio tutti quanti voi per essere venuti a questa live per aver partecipato soprattutto a Fabula Chronicles per aver scritto le per aver datoci degli ottimi consigli e ottimi spunti su cui su cui lavorare vi auguro un ottimo fine settimana a tutti quanti vi ricordo che la settimana prossima ci sarà il il time to 40k questo weekend si grazie grazie starò la sopravvo felice sono felice prego è stato un piacere averti aiutato sono veramente molto contento noi ci vediamo lunedì si ricomincia con la programmazione normale quindi lunedì pranzo di ruolo martedì ma che bel con lo stello martedì non di rondello dove vi faremo vedere anche tutti i prodotti arrivati mercoledì un mercoledì da fabula giovedì terror targa e gemini venerdì ci sarà time to 40k la presentazione del progetto assieme a un sacco di ospiti vi ringrazio vi ricordo che questo pomeriggio esce il capitolo 5 di fabula chronicles giocatene sfondatevi di gioco fatevi sapere cosa ne pensate questo cambiamento e partecipate al sondaggio grazie mille ragazzi e ragazzi vi auguro di ruolare duro sempre e noi ci vediamo lunedì per pranzo di ruolo ciao e buon weekend grazie a tutti